Presidente, allora abbiamo fatto il poker quest'anno, quattro trofei, una stagione indimenticabile. Beh, sicuramente siamo andati al di là di ogni più rosa e aspettativa, è vero che la squadra era costruita per vincere, però che vincessimo così tanto non se lo aspettava nessuno. Ho visto una squadra compatta, con giovani ma anche meno giovani, molto grintosi e con una voglia particolare anche a fine stagione di vincere. Beh, diciamo che la squadra è sicuramente di livello di categoria superiore, secondo me, è un merito, questo va dato al mister perché ha saputo mettere insieme giovani e meno giovani di valore e siamo rimasti compatti fino alla fine. Sicuramente il fatto di vincere aiuta, però la squadra ha dimostrato anche oggi alla distanza di venire fuori, quindi preparazione atletica sicuramente, tecnica ma direi anche psicologica. Perché comunque è difficile tenere. Certo, e il prossimo anno vi aspetto una serie di, direi abbastanza difficili, visto con i nuovi cambi dei calendari, della struttura, quindi con squadre anche che scendono da categorie superiori molto molto agguerrite. Sarà un bel campionato? Beh, sicuramente un campionato di categoria superiore, adesso cominciamo, insomma, continuiamo a goderci la vittoria, voglio dire, poi per il prossimo anno vedremo, faremo penso un buon campionato lo stesso. L'intenzione è quella di mantenere la squadra di ora e secondo me possono fare un bel campionato. Grazie Presidente, in bocca al lupo, per il prossimo anno. Grazie.